Ciao a tutti ragazzi sono Matteo Lemuri e benvenuti in questo nuovo video Reaction Oggi sono capito di fare la Reaction a Doritore, è un film che uscirà, io sto registrando il sabato, uscirà mercoledì, voi vedrete questa Reaction mercoledì quindi dovrebbe uscire. Wow, è un film sugli animali, è un film sugli animali wow, ho visto un popagallo ara intanto prima, wow guardate quei popagalli, bellissimo cos'è, sembra un nuovo incantato, boh c'era un treno che, cos'è, un treno che stava andando sul rotaio, una scivia anche l'avevo vista, fantastico, wow, lo struzzo, lo struzzo, tanti animali che ci sono, bellissimo, quasi l'acqua, è un po' di gioco, è un po' di gioco, è un po' di gioco, e parla pure, fantastico, guarda gli antipesi, fantastico, un bel libro, tolto i due, no, tolto i due, no, tolto i due, no, la tigre o cos'è un circo no è circino nostro polare ma cosa sta succedendo top tover ragazzi top tenuto così da un litto c'è anche il secondo che è che ho trovato ve lo faccio vedere a qui tutti 17 altro poco eccomi tornata 3 del numero 2 via wow vediamo 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 giraffa wonderland eccomì giaciuto la pausa wow guardiamo vediamo jedi macchine di primo uh quanti hai prestato di lì, che fang si di le fang si senti dai ragazzi di primo papagalli chimia 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 flutza chimia braccia che è morta wow guardate quanti animali wow guardate quanti animali gorilla gorilla mi fa pensare tutto questo non è sembra sono tutti sull'araca wow carina lo struzzo l'orca la giraffa no tanta roba sta lottando vabbè anche questo trailer è terminato credo esatto terminato due minuti di trailer ma tanta roba che dire io vi ringrazio per la visione non c'era finito wow lo struzzo volante io inizio a salutare se il video vi è piaciuto lasciatevi un like un commento se siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video beh ragazzi Musica